Martedì 15 novembre, alla Certosa di Collegno, è stato inaugurato il restauro dei laboratori che un tempo ospitavano le attività artigianali dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico e che d'ora in avanti saranno le nuove aule universitarie per il corso di laurea in scienza della formazione primaria dell'Università di Torino. Un investimento di quasi 5 milioni di euro reso possibile dai fondi del progetto Periferie che ha destinato a questo intervento di rigenerazione urbana 2 milioni di euro cofinanziati principalmente dalla città di Collegno e dall'Università degli Studi di Torino. Questa mattina ci troviamo a Collegno nell'area della ex Certosa per inaugurare un bellissimo progetto di rigenerazione urbana portato avanti da città metropolitana in collaborazione con il Comune di Collegno, con l'AS-Totre e soprattutto con l'Università degli Studi di Torino. Tramite un bando ministeriale del 2016 infatti sono state messe a disposizione delle risorse per riqualificare quelli che erano i vecchi laboratori del manicomio e per restituirli alla cittadinanza attraverso la realizzazione di aule per gli studenti dell'Università di Torino della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria. Un intervento molto importante che ha un duplice obiettivo, quello di tutelare degli edifici che hanno una storia molto significativa per Collegno e per tutto il territorio della zona ovest e della città metropolitana e soprattutto riqualificarli e tutelarli guardando al futuro. Tutta la zona ovest infatti insieme a Rivoli, Collegno, Grugliasco e tutti i comuni che fanno parte della prima cintura di Torino in questi ultimi anni hanno potuto sviluppare dei progetti di riqualificazione del loro territorio che passa attraverso iniziative come questa che si sviluppa attraverso il prosieguo della metropolitana, il potenziamento del trasporto pubblico locale. Città metropolitana è un ente di secondo livello, è stato l'ente che ha costruito il progetto da proporre al ministero, ha tenuto insieme le varie iniziative che erano state proposte da diversi comuni della zona ovest ed è stata un pochettino quella che ha fatto sintesi, è stato l'ente che ha fatto sintesi proprio per garantire uno sviluppo del territorio che fosse unitario e che fosse coerente tra le varie progettualità presentate. Ci ha annunciato uno scoop legato a questo posto e vorremmo che lo raccontasse. Grazie, ma sì, l'Università di Torino perché nasce a Torino, comune di Torino, ma ormai da molti anni si espande e occupa gli spazi che sono i suoi spazi, quindi gli spazi della città metropolitana sono a tutti gli effetti spazi dell'Università in realtà da tanti anni abbiamo annunciato, abbiamo ricordato oggi che questa sede già più di 200 anni fa era stata dai certosini passata all'Università per poi diventare ospedale psichiatrico. Oggi ci ritorniamo con grandissimo entusiasmo, qui è già partito, si vedono già gli studenti e stanno già occupando questi spazi gli studenti di Scienze della Formazione Primaria, quindi futuri insegnanti, degli elementari e lo scoop che ho fatto è che un nuovo corso verrà trasferito qua a brevissimo, già dal prossimo settimane, spero, massimo mesi, del corso della riabilitazione psichiatrica. Sono dei professionisti che si formano a livello universitario per aiutare le persone con problemi psicologici, psichiatrici a stare meglio e soprattutto a vivere una vita normale, anche se magari sono un po' più in difficoltà rispetto a altri. Questo posto, antico ospedale psichiatrico, per fortuna chiuso ormai tanti anni fa, è il posto giusto per insegnare alle future generazioni di tecnici della riabilitazione psichiatrica il loro mestiere così difficile e così importante.